vabbè boh basta dai facciamo le persone serie siamo qua fieri su cap edda e insomma dai andiamo a battere qualche altra merda di boss che cazzo devo fare ma qua è un bestemio guarda allora shoot special special vabbè comunque fiero dai fiero andiamo alle zeppeling rosa bestemmia ma fanculo madonna fiero erca troia ma è capito ma si bestemmia ale si bestemmierà duro qua qua si bestemmierà in una maniera senza senso signore vabbè cambiamo livello vaffanculo dai puttana troia ma vaffanculo ma sicilissimo prendiamo questo good day for a well and begin oh ti lancia le pulci ti lancia le pulci buongiorno parto il cazzo vale già morto perfetto perfetto dai Now go! Now go! Now go! Ah ok! Scusate la modalità semplice praticamente vabbè che cazzo ce ne frega voglio dire l'importante è batterli Prova difficile Se pure lo faccio in modalità semplice non sceglie niente Tra l'altro io volevo andare a prendere qualche altro potenziamento Oh questo va Goodbye Goodbye Mettiamoci questo Sto parlando c'è il cazzo Qui che cazzo c'è? Mausoleum Mausoleum Ah devo fare Devo fare gli perri Eeeh Eeeh Questo è abbastanza semplice In realtà Eeeh Che poi gli da la cannucciata La cannucciata del boia Olè Ele Ele Però è figo Non posso sparare Oh Bastardo Vai Schianta Victory Perfetto Questa non c'era neanche la difficoltà Vabbè grazie al cazzo Ti metto una figa Olè Che bello Vabbè dai basta Ho fatto una Si ok vabbè Ho bloccato una super Vabbè mettiamola Quanto non c'ho un cazzo Vabbè non c'ho un cazzo di niente Va bene E allora a sto punto Dobbiamo andare a fare anche l'altro Tanto non c'è nient'altro qui A meno che Se io passi di qua Questo cos'è? Floral Fury Proviamo Cosa cazzo pure questo Oh cazzo roia Olè Olè Ah ci trulla amici Si beh Effettivamente Porco il cazzo Eh vaffanculo Eh vaffanculo Ma perché io ho messo la super Qui cazzo Qui cazzo Qui cazzo Qui cazzo Qui cazzo E' un po' E' un po' Lo siamo affatto e se ne ottoni la cosa. Fuori! No, è difficilissimo. Difficilissimo. No, cazzo! Stavo scendendo, tua madre! Eh, vaffanculo, va. Era sbagliato. Eh, vai figlio di puttana! Ti li manda tutti insieme che fanno le re! Così alla fine sotto non puoi andare, sopra non puoi andare e te la pigli in culo. Adesso doveva farlo. Adesso doveva farlo! Eh, vabbè, allora si stronzo. Guarda che bastardo. Guarda che bastardo! 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 E' più! Si è accantato? Ma è meglio così. Si è accantato, ragazzi! Buon appetito. Questo figlio di troia se non muore Ho preso anche un bel grado, buono, ma ovviamente in regular Tanto mi manca ancora quello sopra La nostra ora e mezza ce la siamo fatta Bisognerà tagliare il video Ci bucchiamo alla prossima Spero che vi sia piaciuto il video Commentate, iscrivetevi al canale Anche tanto non lo fare nessuno Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia piaciuto